ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale sono jopa 17 e oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo video dedicato a jurassic world evolution 2 sul canale ufficiale del gioco come ogni mercoledì finalmente hanno rilasciato delle nuove informazioni riguardanti questo videogame tramite un nuovo developer diary in questo video che probabilmente troverete diviso in capitoli ho deciso di riassumervi brevemente tutto quello che hanno detto gli sviluppatori capitolo 1 ambienti e mappe i giocatori su jurassic world evolution 2 potranno costruire il parco dei loro sogni in diversi ambienti che vi ho già mostrato in un altro video che ho caricato sul mio canale youtube ci hanno confermato la presenza di mappe enormi e se non sono enormi lo possono diventare infatti mi ricordo che online avevo visto una foto di una mappa di jurassic world evolution 2 divisa in varie zone e ogni zona praticamente si sbloccava completando vari obiettivi ogni location in ogni caso è una tela che potremo personalizzare a nostro piacimento per esempio avremo un sacco di strumenti per modificare il terreno naturalmente in base al bioma che sceglieremo dovremo affrontare delle calamità naturali legate proprio a quel bioma che abbiamo scelto o dovremo affrontare delle sfide specifiche come vi avevo già detto nell'ultimo video che avevo caricato pochi giorni fa sul canale gli edifici che costruiremo potremo aggiornarli per proteggerli meglio contro gli effetti delle varie calamità naturali capitolo 2 jurassic park o jurassic world a voi la scelta in modalità sandbox come anche su jurassic world evolution 1 dopo aver acquistato l'espansione return to jurassic park avremo la possibilità di scegliere se costruire il nostro parco in era jurassic park o in era jurassic world chi acquisterà questo gioco su pc playstation 5 o xbox serie x avrà anche la possibilità di mischiare le due ere e quindi poter costruire sia edifici dell'era jurassic park sia edifici dell'era jurassic world in ogni caso potremo personalizzarli come vorremo e saranno presenti sia edifici che già conosciamo bene sia edifici completamente nuovi potremo quindi creare un parco con un'atmosfera unica nuovi edifici e squadre di supporto tra i nuovi edifici saranno presenti anche strutture che ci permetteranno di ospitare membri chiave del nostro staff e squadre di supporto che ci aiuteranno a mantenere il controllo del parco e alto il benessere dei nostri dinosauri il control center per esempio sarà il nostro quartier generale lì potremo assumere vari scienziati che ci permetteranno di sviluppare il nostro parco sbloccando potenziamenti miglioramenti eccetera eccetera con lo staff center potremo tenere sotto controllo il morale degli scienziati che abbiamo assunto ricordatevi basso morale più sabotaggi le unità veterinarie mobili che sono una nuova squadra di supporto introdotta in jurassic world evolution 2 che usciranno dalla pelio medical facility ci daranno una mano a curare gli animali feriti o malati mentre le squadre capture e ranger oltre a fare dei giri di pattuglia nei vari recinti per controllare che tutto sia a posto ci permetteranno di mantenere l'ordine all'interno del parco e di controllare lo stato di salute dei vari dinosauri ora voglio darvi alcuni piccoli suggerimenti i nostri parchi dovranno sempre avere abbastanza energia elettrica per funzionare al 100 per cento ricordatevi che i raptor possono scavalcare le recinzioni non elettrificate le centrali elettriche potranno essere danneggiate dalle varie calamità naturali o potranno subire dei sabotaggi quindi mi raccomando ricordatevi di piazzare di fianco ad esse un generatore di riserva per poter fronteggiare qualsiasi tipo di situazione le gallerie panoramiche e tour naturalmente dovranno essere posizionati in modo che i turisti possano vedere bene qualsiasi tipo di dinosauro e i vari negozi oltre naturalmente a permetterci di ottenere delle entrate per poter espandere ancora di più il nostro parco dovranno essere posizionati in modo da soddisfare tutte le esigenze dei turisti per far sì che questi rimangano il più possibile all'interno del parco visite guidate naturalmente come vi avevo già detto tempo fa fanno il loro ritorno all'interno di jurassic world evolution 2 il tour jurassico e le girosfere oltre naturalmente al tour guidato in era jurassic park questa volta i tour oltre ad attraversare i recinti dei dinosauri potranno attraversare anche le voliere e quindi potremo creare un tour unico con naturalmente varie stazioni per collegare tutto il nostro parco inoltre e questa è una cosa fantastica che già posso fare su jurassic world evolution 1 grazie alle mod i tour potranno attraversare i vari percorsi creando automaticamente un'intersezione modificazione genetica i dinosauri i rettili volanti rettili marini potranno essere rilasciati dalle incubatrici direttamente nei recinti dove li vorremmo liberare oppure li potremo incubare e una volta pronti trasportarli in elicottero in uno specifico recinto un po come facciamo in return to jurassic park per intenderci naturalmente potremmo modificare i vari tratti del genoma per esempio il colore il pattern il sociale e altri tratti genetici già presenti su jurassic world evolution 1 voliere e rettili volanti le voliere potranno essere personalizzate un po come i recinti dei dinosauri quindi potremmo inserirgli rocce piante mangiatoie acqua occhio però a fare in modo che i rettili volanti siano soddisfatti del luogo in cui si trovano perché se no sfonderanno il tetto della voliera e scapperanno in giro per il parco si li potremo catturare e riportare al sicuro però nel mentre causeranno il caos e spaventeranno i vari turisti non so dirvi se potremo ricreare la scena presente nel film jurassic world dove l'assistente di claire viene catturata da uno di questi rettili volanti e gettata nella laguna del mosasauro sarebbe fichissimo poter ricreare una scena del genere ultimo ma non ultimo ogni parco è unico con questo messaggio gli sviluppatori hanno voluto dirci che con tutti gli elementi presenti all'interno del gioco edifici dinosauri era jurassic park era jurassic world mezzi di trasporto personalizzabili avremo la possibilità veramente di costruire il parco dei dinosauri dei nostri sogni io ragazzi non vedo l'ora di vedere le vostre creazioni quindi non appena acquisterete questo gioco mandatemi pure delle foto in privato dei vostri parchi potete inviarmele tranquillamente in privato su discord facebook instagram via mail perché non vedo l'ora di vedere che cosa riuscirete a creare ultimo punto vorrei farvi notare che ci hanno mostrato finalmente lo spinosauro e hanno utilizzato il modello presente nel film jurassic park 3 non vedevo l'ora di vedere finalmente questo dinosauri in azione e non vedo l'ora di liberarlo all'interno del mio parco fatemi sapere ragazzi nei commenti cosa ne pensate di tutto quello che ci hanno comunicato penso che queste saranno le due settimane più lunghe della mia vita perché non vedo l'ora che sia già il 9 novembre per mettere le mani su questo videogame come sempre se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale youtube alla prossima ragazzi iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale